la predica di san francesco un giorno uscendo dal convento san francesco incontrò frate ginepro era un frate semplice e buono e san francesco gli voleva molto bene incontrandolo gli disse frate ginepro vieni andiamo a predicare padre mio rispose sai che ho poca istruzione come potrei parlare alla gente ma poiché san francesco insisteva frate ginepro consentì girarono per tutta la città pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe negli orti sorrisero ai bambini specialmente a quelli più poveri scambiarono qualche parola con i più anziani accarezzarono i malati aiutarono una donna a portare un pesante recipiente pieno d'acqua dopo aver attraversato più volte tutta la città san francesco disse frate ginepro è ora di tornare al convento e la nostra predica l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta rispose sorridendo il santo se hai in tasca il profumo del muschio non hai bisogno di raccontarlo a tutti il profumo parlerà in tua voce la predica migliore sei tu bene eccoci qui insieme a delle speciali comparse di questa edizione 2015 del presepe a bagnoli del trigno allora questi aspiranti fraticelli e angeli in questa edizione daranno voce e sicuramente daranno un'emozione in più a questa edizione allora siamo con speranza con la speranza tu come ti chiami sergio sergio allora ti sei divertito a interpretare il ruolo dell'angelo sì ci è voluto tanto tempo per prepararti no no tu sei preparato sei tutte le parti chi ti ha aiutato ad imparare la tua parte da solo tu che cosa farai l'angelo molto bene allora invece qui a fianco abbiamo fraticello come ti chiami dicolo quanti anni hai sei se ti sei divertito qui insieme ai tuoi amici a interpretare il ruolo del fraticello sì benissimo e poi qui invece abbiamo con un bellissimo cartello con scritto amore questo bel bambino che si chiama emiliano emiliano tu quanti anni hai sette tu sei di bagnoli del trigno sì senti e tu anche tu farei l'angioletto ma l'hai scelto tu oppure volevi fare il frate no l'ho scelto io perché sei un angelo sei stato bravo quindi quest'anno un po un po va bene allora mi raccomando fate un buon lavoro che poi naturalmente verrà sicuramente tantissima gente a vedervi ok sì ebbene adesso con il nostro emanuele che ci farà da cicerone andremo anche noi in visita in questo bellissimo presepe che è caratterizzato da diverse location vero emanuele sì sicuramente quest'anno ovviamente i record vengono battuti perché ogni anno diciamo e quindi partendo da questa zona dove abbiamo raffigurato il presepe dell'anno giubilare abbiamo rappresentato piazza san pietro con l'annuncio del logo ufficiale del giubileo partendo da questa zona dove l'angelo con il vangelo di luca annuncia quella che è la nascita di gesù si può raggiungere un corridoio che termina con la rappresentazione della natività ogni anno diversa e sempre più elaborata e ricercata preceduta da otto stanze differenti otto stanze interamente allestite che riproducono appunto la situazione di quella notte santa molto bene allora andiamo a vedere insieme bene manuele siamo nella prima location dove si sviluppa il presepe allora qui dove siamo allora questa è la prima stanza che si trova appena entrati nel nel corridoio e troviamo innanzitutto l'angelo che annuncia ai pastori appunto che gesù è nato e quindi si devono recare nella nella grotta e poi abbiamo raffigurato delle scene particolari come ad esempio la scuola elementare scuola elementare ricca sicuramente di dettagli perché appunto all'interno abbiamo riproposto tutti i vari oggetti rappresentati nel dettaglio quindi la lavagna i libri il bambino che purtroppo sta studiando e purtroppo è stato rimproverato da poco dalla dalla maestra e per lui sono pronti i ceci stesi sul pavimento antico metodo che veniva utilizzato nelle scuole e poi ci sono anche c'è anche la bambina più più piccola che ha fatto il suo disegno qui addirittura all'interno ecco poi i nostri telespettatori sicuramente riusciranno a vero c'è una ma addirittura una cartina geografica insomma davvero una riproduzione molto minuziosa eh sì uno dei tanti dettagli rappresentati nelle nelle varie stanze è la la forma principale del della rievocazione del presepe qui a bagnoli ogni dettaglio è studiato ci sono progetti ci sono eh realizzazioni che mirano soprattutto al al dettaglio proprio per rendere il presepe qualcosa di di unico ovviamente è ancora più difficile del del presepe vivente perché tutto il materiale deve essere rapportato alla grandezza dei personaggi e quindi è un lavoro veramente immenso e minuzioso ed eccoci con rina e rossella eh alcune appunto delle collaboratrici che hanno aiutato nella realizzazione di questo bellissimo presepe allora un lavoro davvero meticoloso complimenti un lavoro di tre mesi da settembre eh il risultato davvero è fantastico in questa scenografia cosa troviamo signora Rina? In questa scenografia troviamo il mercato con tutte le spezie la frutta c'è di tutto la stoffa eh i cereali e poi lì c'è una una costruzione che abbiamo lavorato quattro quattro persone quattro signore per farla e poi c'è la fontana dove si lava il bucato e lì c'è il mais steso al sole a asciugare c'è la stalla con gli animali delle riproduzioni molto minuziose che vi hanno chiesto sicuramente eh qualche ora di impegno insomma dalla metà di settembre dalla metà di settembre però se il risultato è questo ne valeva la pena complimenti grazie siamo in compagnia di Giancarlo Ieniero vice sindaco di Bagnoni del Trigno in un'iniziativa davvero molto sentita giunta alla quinta edizione ma che davvero unisce eh le nuove generazioni le vecchie generazioni ma che soprattutto dà eh dei segnali di positività di speranza e di armonia in un paese bello come quello di Bagnoni del Trigno infatti infatti è proprio questo lo spirito di questa iniziativa è nato cinque anni fa questa è la quinta edizione era nato proprio per per unire per unire soprattutto i giovani i giovani che stavano crescendo fortunatamente Bagnoli è ricco è ricco da questa da questo punto di vista per cui è nata questa iniziativa è nata questa idea e ogni anno sta crescendo quest'anno siamo arrivati a 280 metri quadrati per cui insomma eh lo spirito è stato è stato importante quanto quanto il sacrificio io infatti eh da amministratori ci tengo in maniera particolare a dire questo cioè vorrei dire grazie veramente a tutti a tutti dal primo all'ultimo senza escludere escludere nessuno e senza considerare chi più e chi meno tutti con volenterosi tutti eh hanno collaborato e altrimenti era matematicamente impossibile fare questo e quindi questa è la cosa che ci tengo in maniera particolare e poi questa emozione l'emozione di vedere anche i bambini che nel loro piccolo riescono a contribuire a questa cosa poi alla fine ripaga di tutti i sacrifici fatti insomma un saluto grazie in